Vedrete come ci farà saltare le sedie con il brio che metterà in questa mazurga. Intanto vi ricordo che è già stabilita la data del concerto Romagna di settembre, quello che si svolgerà a San Pietro in Vincoli, come sempre, in occasione della festa del Luba. Segnatelo, è martedì 27 settembre di quest'anno, naturalmente, a San Pietro in Vincoli per la festa del Luba, concerto Romagna. Allora, siamo pronti con la mazurga. Si intitola Gianna. Va bene, mazurga Gianna con l'esecuzione del maestro Leonardo Vallicelli. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.